Un pensiero molto importante sulla democrazia, sul patto generazionale, sul rafforzare la democrazia, sul patto generazionale, coraggiosa nello spiegare l'importanza del governo delle innovazioni, sia sul terreno economico che sul terreno del welfare. Esce un tratto molto forte su recuperare un'idea di governo pubblico del welfare, dell'universalità del welfare. Abbiamo bisogno di recuperare un sentimento che dobbiamo consegnare alla nostra getta su un progetto di cambiamento unitario che sia in grado di contrastare questa politica di destra e di convincere che è possibile tenere insieme innovazione e protezione. Io condivido il fatto che in questo paese dobbiamo rafforzare la cultura progressista di sinistra perché ne ha bisogno la democrazia, non solo le organizzazioni sindacali. I bilanciamenti democratici sono fondamentali e il vuoto di cultura progressista in Italia e nel paese è un fatto fondamentale perché questa cosa che non c'è più destra e sinistra, no, c'è una destra sovranista, nazionalista e per molti aspetti culturalmente pericolosa. Un invito a tutti noi, abbracciamo la democrazia che la CGL la teniamo unita, abbracciamo la democrazia.